Piano, non andare veloce come la spruzza fuori della cosa, non pensare con pressione, vai sempre piano, qui è una questione di muoversi tu e non la pistola. Vai, 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 ok? Qua è sicuramente lì. Perché sennò sai che puoi fare, Nino? Qua è lì. Sai che cosa puoi fare? Sento. Sai che cosa puoi fare? Puoi fare una mano. Si. E ricominci. Non è lento ancora. Vedo che è lento ancora.